Il campo basso torna al successo scrollandosi di dosso gli strali della sconfitta di Castelfidardo. Contro il Matelica e Garavera, intensa e combattuta, Bullo opera una mezza rivoluzione anche per dare una scossa ai suoi. Rispetto a Domenica fuori Scudieri, Bosco, Fazio e Miani, dentro Di Gioacchino, Marinucci, Fusaro e Di Gennaro. Cambi anche in ragione degli impegni ravvicinati. Dirige bene il barese De Tullio di fronte a circa 600 spettatori. I 22 giocatori entrano mano nella mano, ognuno con piccoli tifosi portatori di handicap per onorare la giornata della disabilità. Al quarto diagonale di Todino respinge senza trattenere Spitoni, si fionda Di Gennaro che forse viene toccato irregolarmente dallo stesso portiere marchigiano. Per De Tullio si può proseguire. Grande occasione rosso-blu al diciottesimo da Di Gennaro a Todino. Il break rosso-blu è giusto come la deviazione in angolo dell'ottimo Spitoni dal corner che ne segue due occasioni in qualche secondo. Prima un pallo di Minadeo a pochi centimetri dalla porta, poi la palla fuori di Todino a porta vuota con portiere fuori causa. Incredibile cosa spreca il campo basso sugli sviluppi del calcio d'angolo. Buono l'impatto di marca rosso-blu. Al trentatresimo il tiro di Marinucci è alto sopra la traversa. Entrambe le squadre non rinunciano a giocarsela. Lo stesso Matelica si fa vivo al trentacinquesimo con questo tiro di Ambrosini parato in due tempi da Conti. Ancora campo basso al trentasettesimo. Pallone lavorato bene da Di Gennaro, è messo al centro, è di pochissimo in ritardo. La corrente, la penna. Matelica-Vispo nel finale di tempo. Al quarantaduesimo pallone gestito e crossato da Ambrosini per la testa solitaria di Api che va in gol. Ma secondo la terna arbitraria la posizione del giocatore è irregolare. Gol non accordato. Nel finale di tempo punizione interessante per il Matelica. La batte dal limite Ambrosini. C'è davvero l'illusione del gol ma rimane soltanto tale. La prima frazione finisce dopo appena un minuto di recupero. Passa qualche secondo della ripresa e Ambrosini invoca un calcio di rigore per un presunto fallo ai suoi danni da parte di Marinucci. Anche qui De Tullio sorvola. Ancora doppia occasione per il rosso-bru. Al terzo Todino si invola verso l'area. Da solo dribbla Spitoni ma esita nel tiro. Perso l'attimo giusto. Opta per il passaggio a Di Gennaro che di fatto finisce con il servire. Senza troppa forza al portiere ospite. Sparisce il sole ma non il campo basso. Al dodicesimo con i tempi giusti il colpo di testa di un buon Marinucci su bel suggerimento di Fusaro. Palla a lato. Vullo consuma due cambi nel giro di pochi minuti. Entra al diciottesimo Dragone e Vitelli al posto di Lapenna e Vitone ex di turno. Attacco pure a tre uomini per il tecnico rosso-blu che vuole sfondare il muro marchigiano. Al ventesimo alle stele la conclusione di Todino. Tutt'altro che semplice fare gol da quella posizione. Al venticinquesimo entra Ferretti per Api nel Matelica. Appena è il tempo di entrare per l'attaccante che la palla è servita a lui davanti a Conti. Graziato è il portiere di casa da parte di Ferretti in campo da qualche secondo. Alla mezz'ora esatta Fusaro prende il coraggio a due mani e vince una serie di contrasti prima di andare a imbeccare l'inserimento di Todino che beffa Spitoni con un pallonetto preciso. È il settimo sigillo stagionale del giocatore rosso-blu e sarà pure il gol partita. Vull ridisegna la squadra. Entra Pignataro per Di Gennaro. Lupi in campo con una sola punta vera che è Vitelli. Bartoccetti allenatore ospite fa entrare Moras per Iotti e l'ex Termoli Mandorino per Ambrosini per dare più freschezza alla squadra. Il neo entrato Mandorino al trentanovesimo. Si ritaglia uno spazio in area per crossare ma c'è il disimpegno di Fusaro. A pochi metri dalla porta finisce con un successo molto pesante ai fini playoff. qualche giorno per rifiatare prima del big match a Selvapiana contro l'imbattuta capolista maceratese.